Tampon Tax Tour fa oggi tappa a Pesaro, seconda tappa nella regione delle Marche, un tour che è nato il 15 di luglio da Firenze per registrare l'ascesa in campo di centinaia di enti locali e decine di enti territoriali, quindi sia comuni che regioni, che hanno seguito l'approccio fiorentino e quindi hanno deliberato atti specifici contro la Tampon Tax, che è l'IVA, al 22% su tutti i prodotti igienico-sanitari femminili e non, per rendere più possibile per tutte le donne, i minori e gli anziani l'acquisto dei dispositivi sanitari per far fronte alle funzioni biologiche. L'amministrazione pesarese non ha mai fatto, anzi in realtà più che non ha mai, è stato uno dei primi grandi città come anche Firenze a scendere in campo a sostegno della promozione del diritto alla salute, facilitare l'accesso ai dispositivi igienico-sanitari e quindi un alleato preziosissimo in attesa che il Parlamento in questa legge di bilancio rimoduli definitivamente l'IVA dal 22% al 4%. Noi dietro sollecitazione dei consigli comunali di Pesero e di Gabicemare, già da un mese e mezzo all'incirca, nelle nostre farmacie, abbiamo fatto una riduzione di prezzo fino ad azzerare l'IVA sui prodotti assorbenti igienici femminili, insomma di tutti i livelli, quindi assorbenti Tampax, Coppette e via dicendo, proprio perché abbiamo capito che l'azione che in qualche modo di sensibilizzazione che si sta facendo con la campagna No Tampon Tax nei confronti del governo è un'azione importante e da qui alla fine dell'anno le cittadine dei nostri territori potranno usufruire di questo sconto, chiamiamolo così, che vada a azzerare l'IVA sperando che nel contempo questa battaglia di civiltà possa essere fatta propria dal Parlamento e possa essere legiferata a qualcosa che poi la vada ad abolire totalmente. Il 22% di tassazione su quelli che sono i beni essenziali indispensabili per circa 40 anni della vita di una donna ci sembrano veramente esagerati perché appunto sono paragonati a beni di lusso, penso sempre, noi portiamo sempre il paragone dei Rolex, pensare che un tampone femminile possa essere paragonato alla tassazione dei Rolex credo che sia veramente una barzelletta, insomma, lo dico proprio in senso anche scherzoso. Quindi ecco, è una lotta giusta che non va solo a vantaggio della donna ma anche della famiglia perché una minor tassazione su questi beni credo che sia un segno di civiltà già fatto da alcuni paesi e da alcune città e al quale noi aderiamo con molto piacere.